Il cambiamento climatico tra le materie di studio nelle scuole. Secondo il GoStudent Future of Education Report 2023, realizzato da GoStudent, piattaforma di ripetizioni e formazione, l'83% degli adulti è favorevole affinché i propri figli possano avere maggiori informazioni sugli effetti del cambiamento climatico. Anche i ragazzi, il 72%, sono d'accordo sull'introduzione di tematiche green da parte del proprio sistema scolastico entro i prossimi 5 anni. Ma non è tutto. Per il 76% degli intervistati, anche le strutture scolastiche dovrebbero diventare sempre più eco-friendly, adottando politiche virtuose e sostenibili. In linea generale, secondo il report, l'81% degli studenti italiani parte già da una base importante di conoscenza sul tema. Ciò nonostante, il 74% vorrebbe saperne di più.